Si è tenuto il primo marzo presso la Cascina San Fedele nel Parco di Monza il campionato regionale studentesco di Corsa Campestre, al quale hanno partecipato 500 studenti, ragazzi e ragazzi. Cascina San Fedele, in seguito alla firma di una convenzione tra Comune di Monza, Consorzio Reggio di Monza e Fidal, è da un anno diventata una delle serie della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ospita atleti e manifestazioni dedicate alla Corsa Campestre. E' una giornata sicuramente importante per Monza, per lo sport, per la scuola, oltretutto in questa location che mi sembra l'ideale per questo tipo di manifestazione. E poi quando c'è questa bella gioventù che è disposta anche al sacrificio, e lo sport è sacrificio, davvero si apre il cuore. Siamo del parere che questa struttura vada valorizzata sempre di più. Già il fatto che abbiamo acceso questa convenzione con Fidal dà modo di utilizzarla quasi a pieno. Vorremmo lanciarla ancora di più. Pensiamo a degli eventi che nel prossimo futuro potranno darci ancora uno slancio maggiore. Oggi è una giornata importante, ci sono stati questi campionati studenteschi regionali di Corsa Campestre. E' una manifestazione molto bella, inserita in questa struttura stupenda che è il nostro parco e questo centro federale che abbiamo aperto insieme alla Federazione Italiana di Atletica. E' una giornata molto bella per i ragazzi perché il percorso si presta molto, è molto affascinante e abbastanza facile. La cosa più bella sarebbe sognare nei prossimi anni di poter fare una manifestazione ancora più importante che potrebbe essere appunto la finale nazionale dei campionati studenteschi. Grazie per la visione!